Ciao a tutti, io sono Gianni, bentornati qui sul mio canale per questo nuovo video nel quale oggi vi illustrerò il mio nuovo impianto di video sorveglianza, questo qui con cui ho deciso di sostituire quello vecchio, wifi, per tre motivi principali che sono innanzitutto la sicurezza, infatti i sistemi cablati come questo sono molto più difficili da manomettere rispetto a quelli wireless e poi la seconda ragione è la stabilità della connessione che con un collegamento wifi, come sappiamo, è sempre un pochino ballerina ed infine perché queste telecamere, essendo PoE, si alimentano direttamente dal cavo LAN senza bisogno di alimentazione esterna, per cui collegando ad esempio un gruppo di continuità sia al router che all'NVR, questi ultimi continueranno a funzionare anche in caso di blackout a differenza invece dei sistemi wifi dove ogni telecamera deve essere alimentata singolarmente e quindi se la corrente elettrica dovesse venire a mancare di conseguenza anche l'intero sistema smetterebbe di funzionare e poi un altro motivo da non sottovalutare è che trattandosi di un kit completamente fai da te durante il processo di installazione non c'è bisogno di possedere alcun tipo di competenza particolare infatti la fase più delicata, se proprio la vogliamo chiamare così riguarda la posa in opera dei cavi Ethernet quando manca la predisposizione detto questo però come sempre prima di proseguire, se volete vedere altri contenuti di questo tipo potete farmelo sapere iscrivendovi al canale, commentando, condividendo e mettendo un mi piace al video in modo che il maggior numero di persone possano vederlo e di questo naturalmente vi ringrazio di cuore in anticipo e pur trattandosi di un sistema entry level dispone comunque di tutte le funzionalità principali ma cosa più importante, funziona davvero bene infatti il software di gestione è molto ben ottimizzato non ci sono particolari problemi il che contribuisce a creare un ambiente semplice ed intuitivo da usare alla portata di qualunque utente, esperto e meno esperto e il cuore pulsante di tutto l'impianto è naturalmente l'NVR dove è contenuto il software per la gestione delle telecamere che come vedremo, oltre a consentire la modifica di tutta una serie di impostazioni si occupa anche di salvare su un eventuale supporto di memoria le registrazioni video che possono essere continuative 24 ore su 24, 7 giorni su 7 oppure esclusivamente in concomitanza con la rilevazione di eventi anomali filmati che collegando l'NVR a router si possono poi consultare anche da remoto con lo smartphone indipendentemente da dove ci troviamo purché ovviamente abbiamo a disposizione una connessione ad internet e nel mio caso per l'NVR ho scelto una configurazione priva di hard disk che ho preferito acquistare a parte perché così ho potuto sceglierne uno di qualità da 2 terabyte che dovrebbe garantire una buona durata nel corso del tempo ed essendo lo scopo principale di questo kit a cui affianco anche altre telecamere esclusivamente quello di monitorare i quattro lati di casa non ho avuto bisogno di implementare una soluzione con videocamere ruotabili essendo le quattro di tipo bullet di cui è fornito più che sufficienti per il compito che devono svolgere telecamere che possedendo un sensore da 3 megapixel possono registrare video in 2k o ancora meglio in full hd il che per il mio scenario di utilizzo è più che sufficiente soprattutto considerando il fatto che in molti casi risoluzioni superiori sono ottenute per interpolazione software e quindi il risultato è solamente un aumento delle dimensioni dei file a cui non corrisponde però nessun incremento del livello di dettaglio nelle registrazioni come dicevamo oltre che il locale con la nvr si può accedere al sistema anche da remoto con smartphone e pc usando le rispettive applicazioni ma non direttamente dal browser dove ha supportato esclusivamente il vecchio internet explorer una metodologia che è stata progressivamente abbandonata ovviamente quando il sistema individua un'anomalia invia una notifica istantanea via mail oppure all'applicazione dello smartphone per avvisarci di quello che sta succedendo integra anche il riconoscimento facciale per cui quando individua un volto oltre a consentire la ricerca delle registrazioni per questo attributo crea anche una serie di miniature con i visi delle persone riprese in totale sono disponibili 8 porte LAN a cui corrispondono altrettanti canali per il collegamento delle telecamere per cui oltre alle 4 in dotazione volendo se ne possono aggiungere altre 4 dello stesso marchio collegate direttamente alle nvr oppure se ne possono abbinare anche altre di generiche supportanti naturalmente il protocollo ONWIF non però con un collegamento diretto con la nvr ma con l'intermediazione da parte del router nella confezione c'è tutto l'occorrente per l'installazione cominciando dalle 4 telecamere ognuna dotata di viti, tasselli e chiave a brugola per la regolazione 4 cavi di rete categoria 5e da 20 metri ciascuno già dotati all'origine del giunto per impermeabilizzare il collegamento con la telecamera l'nvr con il proprio alimentatore composto da un cavo compresa tedesca e da un trasformatore da 52 volt e 1,85 ampere un mouse usb un telecomando ad infrarossi ed infine anche 4 viti per inserire all'interno un eventuale hard disk poi sempre in confezione ci sono anche gli adesivi per segnalare che l'area è video sorvegliata il cavo HDMI per collegare l'nvr al monitor il cavo Ethernet per collegare l'nvr al router alcuni connettori RG45 di riserva nel caso in cui dovessimo per qualsiasi ragione intervenire sui cavi un fogliettino di benvenuto ed infine anche il manuale utente cartaceo esclusivamente in inglese ma comunque molto ben fatto ed esplicativo pur essendo le telecamere realizzate in metallo e certificati IP66 e quindi protette sia dalla polvere sia dall'acqua per non esporle comunque inutilmente agli agenti atmosferici nei punti più vulnerabili per maggiore sicurezza ho aggiunto questa copertura che mi sono autocostruito artigianalmente e ho usato anche una scatola di collegamento in metallo per proteggere i cavi l'obiettivo come vi dicevo è da 3 megapixel e nella zona colorata e nero dove c'è la lente da 3,6 mm con un angolo di visione di 80 gradi ci sono anche il sensore di luminosità e le tre luci a led ad infrarosso per la visione notturna in bianco e nero fino a 30 metri ed inoltre in ogni telecamera è integrato anche un microfono che permette di registrare i suoni ambientali inoltre i video possono essere compressi in formato H2.6.5 il che permette di risparmare spazio sul supporto di archivazione senza perdere naturalmente in qualità dell'immagine come dicevamo la NVR che è il cuore pulsante di tutto l'impianto dispone di 8 canali PoE e può registrare video con una risoluzione massima di 2K e all'interno come ho fatto io si può ovviamente aggiungere un hard disk che è un elemento essenziale perché altrimenti non è possibile salvare le registrazioni video tutte le porte sono sul retro dove oltre a quelle PoE c'è un'ulteriore porta LAN che serve per il collegamento con il router poi c'è l'interruttore di accensione e spegnimento la porta di alimentazione l'uscita audio la porta VGA la porta HDMI ed infine anche due porte USB per navigare all'interno del software di gestione oltre ai pulsanti che si trovano sul pannello frontale dell'NVR dove c'è anche il ricevitore ad infrarossi per il telecomando che assieme al mouse USB esaurisce il ventaglio delle tre opzioni che abbiamo a disposizione per interagire con il sistema ed inoltre l'ingombro dell'NVR è minimo infatti misura all'incirca 25 cm di lunghezza per 22 cm di larghezza ed è alto un po' più di 4,5 cm prima di installare l'impianto è sempre bene testare il funzionamento di tutti i componenti così da evitare brutte sorprese a fine montaggio e il tutto si risolve in pochi semplici passi infatti bisogna prima di tutto collegare l'NVR ad un monitor usando alternativamente la porta VGA oppure ancora meglio quella HDMI e quest'ultima infatti è preferibile perché consente di trasmettere anche l'audio cosa che invece non è possibile fare con il collegamento VGA dove bisogna per forza connettere un altoparlante all'uscita audio dopodiché bisogna collegare le telecamere alla porta LAN usando il cavo di rete e in questo caso come vedremo gli otto canali sono già preimpostati all'origine e non sono modificabili per cui bisogna connettere le telecamere partendo dall'entrata numero 1 e poi procedere in ordine con la 2, la 3 e la 4 in modo da evitare buchi nella visualizzazione poi dobbiamo naturalmente collegare anche il mouse che è il modo più pratico almeno durante la prima configurazione per muoversi all'interno del software di gestione ed infine non ci resta ancora che alimentare il sistema collegandolo alla corrente elettrica a questo punto a schermo comparirà una procedura guidata per impostare le opzioni principali come dicevamo per prima cosa prima di installare le telecamere è bene verificarne il funzionamento collegandole all'NVR poi dovremo creare la password per l'amministratore successivamente impostare il fuso orario e il formato per la data e l'ora ed infine se non abbiamo esigenze particolari potremo proseguire con la configurazione accettando le scelte preimpostate poi con questo codice QR potremo scaricare sullo smartphone l'applicazione per poter visualizzare il sistema da remoto il che ci permetterà di usare il telefono per regolare l'inquadratura delle telecamere dopodiché potremo personalizzare le finestre aggiungendo o togliendo alcuni parametri e cambiare anche la risoluzione del monitor al quale è connesso l'NVR che nel mio caso è di 1280x1024 pixel e a questo proposito vi ricordo che scegliendo una maggiore di quella supportata il display andrà fuori scala mostrando un messaggio di errore e l'unico modo per ripristinare il sistema è quello di connetterlo ad un altro monitor supportante la risoluzione che abbiamo erroneamente scelto per cui per evitare problemi vi consiglio di lasciare quella rilevata automaticamente dal software di gestione senza intervenire manualmente il che conclude la configurazione guidata che come avete visto è semplicissima e alla portata di qualunque utente con un clic del tasto destro del mouse in qualunque parte del display accederemo ai vari menu iniziando da quello principale che si compone di quattro schede all'interno delle quali ci sono anche molte opzioni e impostazioni ovviamente oggi per non rendere il video troppo lungo vi mostrerò solamente quelle più importanti iniziando quindi dalla prima con la quale è possibile cercare e visualizzare le registrazioni e dove avremo a disposizione alcune scelte per cui potremo ad esempio selezionare il canale e quindi la telecamera che ci interessa la fascia oraria la data ed infine impostare ad esempio una ricerca per volto in impostazione registrazione invece potremo per ogni singolo canale e quindi per ogni telecamera regolare i parametri relativi alle riprese programmando ad esempio giorni e orari in cui registrare su disco registrazioni che possono essere continue spuntando la relativa casella oppure solamente in occasione della rilevazione di eventuali eventi anomali che si suddividono a loro volta con le restanti due opzioni in rilevazioni del viso oppure di figure umane e programmazione che può naturalmente essere uguale oppure diversa per ogni singolo canale in rete si possono regolare alcune impostazioni avanzate sulle quali intervenire solamente in occasioni di esigenze particolari altrimenti il sistema funziona benissimo anche lasciandolo a valori predefiniti infine in data e ora potremo regolare l'orario passando poi alla seconda scheda con la prima opzione potremo ad esempio cambiare la lingua del sistema e scegliere il comportamento da tenere quando il disco dovesse riempirsi sovrascrivendo ad esempio le registrazioni più vecchie con quelle nuove molto più importante invece è quest'altra sezione chiamata codice dove è possibile per ogni canale e quindi per singola telecamera cambiare la risoluzione scegliendo tra 1080p e 3 megapixel il numero di fotogrammi al secondo che può arrivare fino a 25 la qualità delle immagini ed infine anche il formato di compressione per finire tralasciamo le altre tre schede che vi mostro velocemente solamente per completezza di trattazione anche perché alcune come questa ad esempio le abbiamo già incontrate nella configurazione iniziale mentre con l'ultima voce potremo modificare gli utenti esistenti oppure crearne di nuovi consentendone o meno l'accesso come amministratore specificando anche quali privilegi concedere dalla scheda allarme invece potremo intervenire a livello di singolo canale sulle notifiche generate dalle rilevazioni di volti oppure forme umane impostandone per ognuna il comportamento scegliendo ad esempio l'intervallo e la durata a cui può essere abbinata nel caso di telecamere dotate di altoparlante anche una sirena oppure un avvertimento vocale inoltre si può anche scegliere il livello di sensibilità in modo da escludere i movimenti ininfluenti e applicare delle regole creando delle aree in corrispondenza delle quali rilevare il movimento così da escludere dall'inquadratura quelle porzioni dove è molto probabile che si creino dei falsi segnali che genereranno a loro volta delle notifiche inutili poi direi che possiamo tralasciare anche le altre opzioni di questa sezione che vi mostro solamente per qualche istante senza entrare nel dettaglio perché sono di minore importanza mentre è il caso di spendere qualche secondo in più sull'ultima sezione dove con la prima opzione potremo ottenere delle informazioni sul disco fisso tra le quali c'è lo spazio libero ancora a disposizione per le registrazioni poi con le prossime voci potremo gestire gli aggiornamenti impostare dei riavvii del sistema programmati ripetere la procedura di prima configurazione esportare i log di sistema visualizzare gli eventi le statistiche relative al consumo di dati sia istantanee che orarie ed infine ottenere anche alcune informazioni aggiuntive di minore interesse mentre con le restanti opzioni del menu tendina al quale vi ricordo nuovamente si può accedere con un semplice click del tasto destro del mouse dicevo che con le restanti opzioni possiamo gestire le telecamere già collegate e aggiungerne di nuove sia direttamente sia con il protocollo on with poi potremo regolare la luminosità dei led ad infrarosso in modo da migliorare la visione notturna cambiare il layout dello schermo scegliendo tra le varie configurazioni disponibili attivare i controlli PTZ per ruotare dalle moto le telecamere che però naturalmente devono supportare questa funzionalità ed infine con le ultime due scelte potremo anche verificare la funzionalità della rete e spegnere oppure riavviare il sistema arrivati a questo punto direi che è giunto finalmente il momento di provare questo sistema di videosorveglianza iniziando dalla rilevazione del movimento e dal conseguente invio delle notifiche che come vedrete sono istantanee per tutte e quattro le telecamere indipendentemente che sia giorno oppure notte grazie a tutti Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti.